ben trovati cari amici spero insomma vada tutto bene come si dice Ezio come stai se vuoi ti farò rispondere dalla Cassazione a tempo debito intanto buona giornata a tutti gli amici di Juventus una signora per due ci sono finito io sullo sgabello questa volta no allora intanto le novità immagino le conosciate l'inchiesta Prisma si sposta comunque in corte di Cassazione la decisione della serie laviamoci nelle mani perché ha deciso di non decidere in ossequio alla più leggiamo a una parte perché allora la decisione sulla competenza territoriale lo ricordiamo del processo sarà la Cassazione a decidere se resterà a Milano la trasmissione degli atti in borsa o meno se la Cassazione deciderà di spostare in questo caso il procedimento il 26 ottobre si ucciderà tutto a Torino e si ripartirà in una nuova sede significa che se si dovesse spostare in una nuova sede tutti gli atti sembra banale però tutto cosa succede che tutti gli atti dalla procura di Torino debbano essere trasferiti alla nuova sede alla nuova sede e chi li riceverà avrà bisogno di tempo tanto tempo per potersi studiare minuziosamente tutti gli atti quindi qui andiamo verso come avevamo largamente anticipato verso un primo grado di giudizio che se va bene ma se va proprio bene bene arriverà a 2024 molto 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 inoltrato tra l'altro accolte le costituzioni di parte civile contro la Juventus no quelle sono state respinte accolte solo quelle contro le persone fisiche ma diciamo un'altra cosa molti ci sono anche chiesto e mi hanno chiesto che cos'è questa lafico o lafico che è questa società libica sono in buona sostanza i rimasugli residuati della famiglia Gheddafi ah sono loro perfetto che peraltro detengono anche una quota azionaria non irrelenante dovrebbe essere sull'ordine credo del 7% questione seria dice legale della juve bella cost sarà decisa in corte di cassazione questo lo sapevamo ma l'avevamo come ha detto ezio previsto però c'è un'altra data importante che è forse quella che riguarda maggiormente ci preoccupa di più che la cosiddetta penalizzazione perché la nuova udienza si terrà in questo caso in corte federale d'appello il 22 di maggio 22 di maggio giorno in cui anzi sera in cui noi avremo una partita contro l'empoli sempre sempre cadono sempre con una strana incidentalità e coincidenza in prossimità in prossimità di certi di certi tu dici di certi incontri? si anche perché dove tu non avessi impegni di metà settimana far cadere una cosa di questo tipo a metà settimana la metabolizzi anche in un certo modo farla cadere il giorno della partita ecco io credo che sia un tiro mancino ecco ma pensiamo male forse si siamo autorizzati a pensare a pensare male si resta ancora nel limbo perché ci sarà la partita con l'empoli se non sbaglio il 22 esattamente no poi ci sarà ancora quella con il Milan che sarà la penultima di campionato ecco sì in ogni caso quello sarà l'ultimo credo dovrebbe essere l'ultimo grado di giudizio perché a meno che non vogliano in caso di sgradevole o di non gradito esito della nuova sentenza della corte d'appello federale andare nuovamente al collegio di garanzia del coni ammesso e non concesso che il ricorso al collegio di garanzia del coni venga accolto occorrerà poi attendere comunque anche quel grado di giudizio per poter poi eventualmente andare come io auspico al tar perché questa volta bisogna andare fino in fondo perché se non si va fino in fondo allora una volta di più significa che la proprietà è e come già lo è stata in passato è nuovamente complice di questo di questo di questo susseguirsi di eventi persecutori ma quando dico persecutori non sto dicendo che la juve sia linda pulita immacolata e che abbia fatto tutto a regola d'arte è evidente che qualcosa a regola d'arte non l'ha fatto ma è altrettanto evidente che la piega che il l'ordalia giustizialista ha voluto inferire a questa a queste situazioni è tale da non giustificare le eventuali scorrettezze addebitate tutto ecco tutto questo detto io pretendo che si vada al tar a costo di creare un movimento di di opinione pacifico a costo di convocare adunate di piazza perché non è accettabile che una proprietà si lasci sbertrucciare in questo modo a meno che non abbia interesse a far sì che tutto che 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 il club venga ridimensionato alla luce di sporchi interessi ancora una volta massimo extra calcio che devo dire è un sospetto che può venire fuori naturalmente rispetto a a quella che è stata l'avventura del 2006 beh massimo faccio bello dire perdonami se mi sono sono entrato a piedi uniti ma uno che fa causa alla madre cosa vuoi che gliene freghi di una di un di un rametto un rametto un rametto un rametto d'azienda che è una squadra di calcio no no il ragionamento ci mancherebbe altro assolutamente giusto faccio un qualcosa di extracalcistico cioè parlo di qualcosa di extracalcistico al di là della Juve dove sono stati già ripianati ho fatti aumenti di capitale c'è anche una questione che riguarda un altro ramo della famiglia di uno che spesso si esprime sui social che è l'Apple Can e in questo caso John ha dovuto ripianare anche un debito di Italian Independent che è un'azienda che non ha mai fatto utili quindi credo che a un certo punto John possa dire basta entrambe le situazioni oppure viviamole con estrema calma e cautela quello che succede succede sappiamo che la passione calcistica di John non è pari a quella però ti faccio una domanda per il cricket ti faccio una domanda prima di parlare brevemente anche del Siviglia che domani è chiaramente è partita stasera stasera sì ma io la metterei già stasera questa faccenda per cui ci guarda stasera ci vede domani no? il peso politico John lo può avere perché è presidente è il presidente John amministratore amministratore delegato della Stellantis no mi pare che sia presidente adesso non mi ricordo su quale delle due su Exo e su Stellantis in una è presidente dell'altra amministratore delegata potrebbe avere un grande peso politico secondo me ma forse non lo sta esercitando e questo è la cosa che mi preoccupa di più ma non solo eh avete riflettuto sul fatto che nel pool di avvocati eh chiamati a difesa della Juve non ce n'era uno esperto di diritto sportivo sì o comunque uno di acclarata eh autorevolezza in nel campo del diritto del diritto sportivo non ehm io non sono in grado di poter sindacare la la capacità la bravura la professionalità e e dico anche per fortuna perché laddove tu non sei in grado di poter eh esperire opinioni professionali sugli avvocati vuol dire che non ne hai mai avuto bisogno tanto ecco no però eh insomma mi sembra che ne usciamo sempre eh non ne usciamo mai bene e questo non uscirne mai bene eh io non lo imputo alla ehm a cattive professionalità di chi è stato chiamato a difendere eh perché come già detto per l'avvocato Zaccone anche questo pool di tecnici eh probabilmente deve assolvere l'incarico conferito dalla dalla proprietà che poi pubblicamente ehm la proprietà si esponga con eh frasi copia e incolla e che sembrano imparate a memoria e dette senza alcuna convinzione eh per lasciare intendere una cosa eh mentre la realtà è un'altra ecco invece tutt'altra ecco questo non lo possiamo sapere ma il sospetto il sospetto con questo soggetto eh si impone allora andiamo anche a quella che sarà la sfida con il Siviglia ipotetica formazione a Scesni Danilo Lugani parentesi Bonucci sappiamo che è fuori Bremmer Alessandro andiamo ancora avanti siamo si sono Locatelli Fagioli Fagioli Locatelli Ravio Costice Chiesa Costice o Chiesa a sinistra Di Maria a destra e Vlaovic e naturalmente l'Auric vedremo domani insomma è importante questa Europa League eh per tante cose ma sì se non altro per andare allora intanto per per una soddisfazione eh di campo che non sarà assolutamente facile eh cogliere per quella che per quello che è il valore in Europa del Siviglia e per quello che è eh la nostra filosofia di calcio che è totalmente antitetica eh a quella del football continentale che eh abbiamo avuto modo di di vedere di constatare ad esempio in nella partita tra la Madrid e il Manchester City dall'altra dall'altra parte è importante perché è vero che la vincitrice dell'Europa League accede automaticamente alla UEFA Champions League però dal momento che possiamo dare per scontato che tramite il campionato non avremo una qualificazione alla Coppa eh eh il poter scontare subito un'eventuale eh penalità inflitta dall'UEFA eh eh sarebbe possibile solo appunto vincendo la Coppa la Coppa Minora ecco è interessante capire che cosa potrebbe succedere comunque vi auguriamo una buona serata se ci guardate questa sera un buon caffè se ci guardate domani sì e vi invitiamo naturalmente tac a iscrivervi al canale e ci vediamo presto se c'è qualche novità ve la comunichiamo e ci vediamo prestissimo e comunque sicuramente per il per la partita eh probabilmente anche prima ma sicuramente nell'intervallo assolutamente e poi nel nostro nel nostro solito commento post gara a presto oltre alla fine AUC AUC